Musica Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, vediamo insieme le notizie di oggi. La splendida cornice lagunare della città di Venezia sta ospitando in questi giorni il Setti The Tourist, thriller diretto da Florian Ankel in uscita negli States a fine anno. La storia parla di Frank Taylor, ignaro turista statunitense, che viene incastrato da un'operazione dell'Interpool per catterare un pericoloso criminale internazionale. Una delle coppie più belle e certamente più serie dello star system cinematografico è senza dubbio quella composta da Johnny Depp e Vanessa Paradis, dodici anni di vita in comune e due figli. A quanto pare i due saranno presse insieme anche sul set di My American Lover di Lars Elmstrom. In American Lover Vanessa Paradis interpreterà la femminista Simone de Beauvoir, mentre Depp sarà il suo amante Nelson Elgrin. E ci voleva Giovanni Veronesi per abbattere lo strapotere di Avatar nelle sale cinematografiche italiane. Il film di James Cameron lascia il primo posto della classifica al botteghino, durante questo primo weekend di programmazione del nuovo film di Giovanni Veronesi. Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso. E ora vi lascio con il trailer di oggi. Scusi. Sentite, c'è quello del catering che cerca un coltello. Ma non arrendo. Ma è sempre lei? Le lascio il nostro biglietto, non si sa mai. Grazie. Partenza sabato mattina, rientro domenica sera alle nove. Per la polenza e capriolo si fa questo e altro, no? Ciao. Ciao signorina. Mimmo, tra poco siamo di nuovo in rosso. Lo so, sì. Tu quando potresti? Il mercoledì avrai la piscina. Il mercoledì mi hanno incastrato in ufficio, sarò a casa tardi. Tardi quanto? Sono 50 euro le prime quattro ore. Ciao. 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 Dimmi chi è. Dimmi chi è! Non è nessuna cazzo! Come mai non mi hai chiamata? Stavi lavorando? Vorrei averti incontrata prima. Adesso è troppo tardi. Papà! Papà! Volevi conoscere mia moglie o ti diverte a carmi i problemi? Dillo. Oh, basta! Mettetela! Se tu dovessi vedere Bianca con un altro, me lo dici subito. Ci siamo solo fatti delle gran belle scopate. Ma perché tu non lo vorresti sapere? Oh, ti fermi! Si può sapere cos'hai? Domani torniamo. Io vado a casa mia, tu da tua moglie. Perché tu sei pronta a lasciare il tuo compagno andartene? Hai già deciso tutto tu. Pensavo che saremo stati in due a decidere. Per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.